di nuovo bentornati in diretta anzi bentrovati spero tutto bene un saluto e un grazie alla collega misa urbano che ha condotto la prima parte adesso che cosa facciamo insieme sono da poco passate le ore 22 io direi mettiamoci intanto comodi sui vostri divani sulle vostre sulle vostre poltrone e perché no visto l'orario non sorseggiare insieme magari un buon cocktail un buon distillato non ci possiamo andare non fa niente vi ci portiamo noi sapete che negli ultimi mesi c'è questo fenomeno di di acquistare i cocktail in bottiglie però dall'altra parte è pur vero che negli ultimi anni c'è questo trend al no alcol da una parte potrebbe essere una scelta come dire salutare dall'altra anche un un briciolo di buonsenso no quante volte andiamo a cena fuori andiamo a bere qualcosa con gli amici poi dobbiamo guidare e allora stiamo lì che non sappiamo bene che cosa prendere questa sera questa sera vi voglio parlare di un'azienda australiana che è sbarcata anche in italia che pensate propone i migliori distillati migliori cocktail proprio quelli più gettonati quelli più conosciuti più amati non vi faccio nomi ma avrete sicuramente capito proprio quelli proprio quelli a cui state pensando però pensate analcolici vi posso assicurare stesso gusto stesso sapore ma senza alcol guardate l'airess sbarca in italia distribuito da fine spirits azienda australiana che arriva nel mondo degli spirits con delle imitazioni degli spirits classici in versione analcolica esattamente come l'uccello in etichetta l'air bird è un uccello che imita perfettamente tutti i rumori che ci sono intorno a sé nella stessa maniera l'airess imita i distillati presenti sul mercato ma in maniera completamente analcolica grazie a distillazioni particolari macerazioni e infusioni si ottengono tutta una gamma la più completa sul mercato di 13 distillati analcolici che possono e permettono di poter inventare drink completamente innovativi sia nel mondo degli analcolici sia nel mondo di questo nuovo trend che lo lo alcol in questo momento abbiamo fatto un americano un classico drink dell'aperitivo italiano che permette di avere lo stesso aroma lo stesso gusto di un americano classico ma senza alcol l'airess il mondo che aspettavamo un mondo che aspettavamo ebbene lo aspettavamo sul serio vi posso assicurare i più gettonati proprio come vi dicevo prima i cocktail più ricercati distillati più amati stesso sapore ma senza alcol capiamone di più con l'esperta di comunicazione valeria carbone valeria carbone pr agency l'airess italia con in realtà è una quasi novità per l'italia ma è qualcosa che è piuttosto forte nel mercato globale perché l'esigenza è quella di andare ad allargare in qualche modo la il pubblico il target prendere quelli che solitamente non bevono per tutta una serie di motivi che siano di salute o personali e anche avvicinare un pubblico che magari vuole semplicemente ridurre la quantità di alcolici e la quantità di alcol quindi effettivamente una rivoluzione perché è un trend è un trend nuovo che ovviamente non sostituirà il gradimento dell'alcol ma che crea un'opportunità in più sia di consumo sia di vicinanza al consumatore Mirko Turconi brand ambassador fine spirits italia gli avvenimenti di questi prodotti nei confronti di un pairing possibili sono esattamente come quelli che solitamente si hanno in un drink alcolico se si parla di sigaro se si parla di un dessert si si parla anche di un piatto salato è un perfetto match un perfetto equilibrio in ambito di abbinamento il prendiamo l'esempio di un di un negroni se si parla di un negroni un perfetto aperitivo soprattutto famosissimo in italia per cominciare la nostra serata facendo un negroni analcolico si può avere lo stesso tipo di abbinamento proprio perché si hanno queste note di amare di parti amari di parti amaricanti di parti speziate che possono accompagnare perfettamente un piatto salato il mondo del drink sta cambiando sia in termini di qualità che in termini di alcolicità perché se da una parte è vero che c'è sempre più attenzione alla qualità del drink quindi all'ingrediente che viene utilizzato c'è anche sempre più attenzione adesso al contenuto alcolico quindi a un'alternativa al mondo dell'alcol che possa mantenere il suo equilibrio di gusto questo perché magari qualcuno ha bevuto troppo e vuole continuare a bere e quindi c'è la possibilità di avere un'alternativa oppure per chi per condizioni religiose o anche solo personali non ha intenzione di bere alcol ma vuole avere la possibilità di ritrovare i gusti che solitamente si hanno in un mondo di miscelazione alcolica questa era valeria carbone e vi consiglio vi consiglio andate a cercare questa azienda perché è davvero interessante oltre che innovativa e poi perché no potrebbe essere anche un perfetto regalo di natale adesso però voltiamo pagina perché abbiamo nostro ospite questa sera a farci compagnia giuseppe fiorito che ha scritto un libro davvero davvero interessante dovrebbe essere già pronta lui buonasera giuseppe buonasera a voi buonasera a voi tutto bene come state benissimo allora benvenuto benvenuto tu hai scritto hai scritto un bellissimo libro dovremmo avere anche la la copertina vediamo un po se il regia mi aiutano così lo facciamo vedere dici un po dici un po il titolo del tuo libro il titolo è la versione di krasnojask si ed è un libro che si basa su un viaggio che io ho fatto in siberia qualche anno fa ok allora qualche anno fa esattamente quando ricordami un po 2017 ok nel 2017 poco prima di dicembre anzi scusa poco prima di natale ecco quindi siamo 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 esattamente in questo periodo io perché tra qualche giorno tre anni fa ok proprio in in questo periodo che cosa succede che tu fai fai questo viaggio sì vado a trovare questo mio amico col quale lavoro d'estate lui vive lì e mi ha sempre decantato questo posto come un posto difficile sicuramente sì ma un posto dove se qualcuno ha un po di talento e un po di intraprendenza può fare delle un sacco di cose io che ho sempre cantato mi sono sempre mosso un po ai margini del mondo dello spettacolo lì c'erano delle possibilità di cantare in locali canzini radio e allora detto perché no proviamo io c'è quello che gli dissi è non vengo in vacanza perché non credo che nessuno vorrebbe andare in vacanza in un posto che è sempre a meno 20 ma vengo a vedere questa a vivere questa esperienza ok volevo vivere un'esperienza in un posto remoto e in un posto che mi permettesse di esprimere un po le mie capacità artistiche allora diciamo sì infatti partiamo proprio da questo no tu sei un artista a 360 gradi posso dire così sì possiamo dire così nel senso che faccio non benissimo ma un sacco di cose bene 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 allora c'è questo tuo amico questo tuo amico che ti invita ti dice vieni mi vienimi a trovare chiaramente vieni a trovare perché lui sì lui lavora in questa radio negli anni lui arriva a Krasnoyas come lottatore perché Krasnoyas che è un posto dove c'è la palestra più importante al mondo di lotta libera e lui che era un prospetto nazionale juniores è andato prevalentemente per quella ragione poi si è innamorato del posto e ha capito anche lui che c'erano delle grosse possibilità se uno era un po spigliato un po esuberante così poi c'era il fatto di essere assolutamente una novità no è quello che sono stato io perché certo un posto che è veramente lontano da tutto perché esatto non è proprio dietro l'angolo no quindi prima di prima di andarci uno ci pensa bene sì tu pensa che da Mosca sono quattro ore e mezza d'aereo da Mosca da Mosca e per arrivare a Mosca esatto per cui è veramente lontano da tutto quando arriva una persona che fa delle cose diverse da quelle che sono abituate in una lingua diversa da quella che sono fatte a sentire è sicuramente una novità è qualcosa sicuramente che incuriosisce allora vediamo un po' dunque quindi questo libro tu mi dicevi che è una sorta di diario sì una sorta di diario io sai già la cornice lì si predisponeva a dei racconti perché comunque dei paesaggi incredibili delle temperature a cui non siamo abituati dei personaggi che sembravano usciti alle volte da dei film di manzina piuttosto che delle cose un po' tra il grottesco e il divertente così per cui io alla fine di ogni giornata mi segnavo una battuta detta o una del noto successo o un fatto accaduto e poi li mettevo li mettevo da parte quando sono tornato ho anche cominciato a scrivere un capitolo che non era il primo però sentivi questa esigenza tu sentivi questa esigenza di raccontare quello che avevi sia quello che stavi vivendo perché giorno per giorno ti appuntavi qualcosa sia proprio quando sei tornato avevi questo desiderio di raccontare questa esperienza di un mese esatto perché anche per me oltre ad avermi colpito era una cosa che io ho sempre viaggiato perché ho viaggiato tanto sia per lavoro che per e per passione però per passione esatto e però in un posto del genere non ero mai stato per cui mi aveva colpito chiaro io poi ho lasciato questi appunti in un cassetto fino a marzo fino a marzo questo mese marzo 2020 che tutti ricorderemo esatto è stato un mese devastante e io ero ritornato a casa appena in tempo perché poi chiusero l'aeroporto il giorno dopo io mi ricordo tornai a casa il 29 febbraio ero andato a trovare i miei che stanno vicino Milano per cui in una zona abbastanza complicata tu esattamente dove sei geograficamente? io sono a Cagliari a Cagliari, una bellissima Sardegna sì esatto e per cui tornai a casa e vivo da solo per cui dopo due o tre giorni di così galleggiamento in un limbo in cui non si sa cosa fare ti guardi la televisione, ti vedi, mi sono ricordato di questi appunti, li ho tirati fuori ed è stato veramente come se un po' mi avessero chiamato perché li ho guardati e ho cominciato a fare uno schema per metterli in un ordine cronologico per metterli in un ordine che avesse un senso allora poi mi sono messo a scrivere e questa cosa devo dire dello scrivere io sono il patentino di giornalista pubblicista per cui scrivo degli articoli che possono andare dallo sport al cinema che sono due mie grandi passioni però e avevo fatto anche dei racconti un po' più brevi però una cosa così grande non l'avevo mai fatta allora piano piano mi sono messo lì e ho cominciato a scrivere e mi ha aiutato tantissimo sia perché mi ha evitato di pensare alla situazione drammatica che ci stava circondando sia perché mi aiutava a tenere la mente comunque allenata, comunque vigile, comunque sveglia, no? Sì, sì Sai, scrivere è un processo non solo creativo Anche liberatorio se vogliamo Sì, sicuramente, guarda, sicuramente avevo bisogno di catarsi, no? Dovevo buttare fuori delle cose che avevi dentro Assolutamente, che magari stavano macerando da quando avevo fatto questo viaggio E poi è anche, sai, un esercizio mentale perché tu scrivi, poi cancelli, lo rifai, salvi due righe, queste le metto via Come no? Questo si può fare meglio Poi quando si scrive un libro, scusami Giuseppe se ti interrompo, bisogna anche fare attenzione se nel frattempo si sta leggendo qualcos'altro Perché spesso si subisce anche l'influenza, no? Sì, 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 assolutamente, assolutamente Sì, devi cercare di, che ne so, non Di restare te stesso Esatto, io sono molto amante delle citazioni Infatti nel libro ce n'è una valanga di citazioni cinematografiche Piuttosto che culturali, piuttosto che musicali Però volevo comunque dargli, come hai detto tu, un'impronta mia Un taglio mio, che non fosse un copia e incolla di qualcos'altro È il tuo primo libro, Giuseppe? È il mio primo libro di questa lunghezza, sì, come ti dicevo, ho fatto dei racconti più corti ma niente di pubblicato e soprattutto niente di così lungo Certo, 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 certo E senti un po', quindi hai passato la pandemia, hai iniziato fin da subito proprio? Ho iniziato, ti ho detto, credo dal, adesso la data non lo so, però io sono tornato il 29 febbraio e credo che il 3 marzo ho cominciato a scrivere e ho finito appena dopo, appena dopo il famoso 4 di maggio Quando ci hanno liberato Quando ci hanno riaperto, quando ci hanno detto ok E io poco dopo ho finito il libro Immagino, immagino, poco dopo l'hai concluso e poi è stato pubblicato Sì, anche la pubblicazione è stato un processo per me nuovo e per cui molto stimolante Perché l'ho fatto leggere a mia madre, che è una maestra in pensione, più un'altra mia amica che è maestra Avevo fatto leggerlo mano a mano, che scrivevo i capitoli, l'avevo fatto leggere a un altro mio amico, giusto per avere un feedback, no? Certo, mi viene da chiederti, mi viene da chiederti, scusami, poi mi dici bene, ma far leggere il proprio libro alla propria mamma? Beh, ma a parte che con mia mamma abbiamo un rapporto abbastanza, diciamo così, aperto Anche perché in effetti sì, io un po' di problemi me li sono fatti Però, diciamo così, che ho chiesto proprio specificamente la sua Vabbè, questo è molto bello Sì, sì, ma soprattutto gliel'ho chiesto con un carattere professionale Certo, certo Ho chiesto proprio un suo parere da maestra Sì, certo, perché da una parte, no? Come dire, è mettersi a nudo A tutti gli effetti Sì, assolutamente, assolutamente Però poi, sai, ho riflettuto Comunque l'avrebbe letto in qualche modo, no? Certo, figurati se non l'avrebbe letto Meglio prima Ok, quindi c'è stata tutta questa fase, insomma, della rivisitazione Trovare, sì, sì, una casa editrice che fosse disposta a scommettere su di me Poi un bellissimo momento è stata anche la parte dell'editing, no? Per cui, sai, la costruzione in effetti del libro è stata molto molto interessante Sì, poi c'è stata tutta la produzione e adesso finalmente è uscita La divulgazione, la divulgazione Esatto Purtroppo, però, forse magari la cosa che ti mancherà sarà proprio le presentazioni, come dire, no? Esatto A quelle a cui eravamo abituati Esatto, devo dire che, soprattutto per me che è un primo libro Sì Mi faceva molto piacere Certo Mostrare il mio lavoro, no? Certo Sono anche andato nella libreria, c'è una libreria abbastanza grande, non lontano da casa Appunto a spiegargli che avevo scritto un libro e se era possibile Però, appunto, mi è stato detto che loro, gli dispiaceva molto Anche perché, sai, uno scrittore sotto casa Però, per ragioni, appunto, di pandemia, di sicurezza, eccetera, eccetera Queste cose adesso non si potevano fare Tu pensa, Giuseppe, quante cose che davamo per scontato Assolutamente A me tante volte è successo Magari, appunto, mi ricordo una domenica avevo un impegno di lavoro Dovevo aspettare una collega Ero in largo anticipo, come spesso mi capita Avevo un'ora abbondante Entro in una libreria e c'era una presentazione di un libro Mi sono fermato, me la sono goduta, è stata una sorpresa No, questo è stato un regalo Tante altre presentazioni fra amici, conoscenti, ma anche per lavoro Purtroppo non ci sono potuti andare E oggi, invece, siamo qua a dire Tu pensa quante cose abbiamo dato per scontato Sì, sì, alle volte ci sono delle libri Ma una cosa anche molto sciocca Molto sciocca, se vogliamo, Giuseppe Durante proprio la pandemia, quando stavamo chiusi dentro Io pensavo alle tante pause caffè che facevamo una volta Hai ragione, hai ragione Che ci hanno legato E quando proprio siamo riusciti Per me la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di Andare a bere il caffè Di andarmi a bere un caffè al bar Ci credi? Cioè è stato proprio una liberazione Sì, no, è stato il caffè più buono del mondo Eh, come? Ma sì, ma io poi sono uno che spesso, no? Magari con gli amici Ok, dai, ci vediamoci e andiamo a bere un caffè Oppure fare dei giri Poi, vabbè, pausa caffè, no? Quelle cose che davamo proprio per scontato Poi spesse volte era anche un po' una scusa Poi a volte, secondo me, dietro il caffè c'è quella falsa credenza Di dire, sì, per carità, c'è la caffeina Tutto quello che vuoi dare energia Però come se il caffè poi, no? No, ma è più Ti dà molta più energia, secondo me Lo scambio di pareri, di opinioni, di cose Con chi stai bevendo il caffè È quello, secondo me Esatto, allora tante volte lì Distrattamente questo caffè al volo Ma questo è come tante altre cose Che appunto davamo Davamo per scontato Assolutamente, assolutamente Io fortunatamente su Interrazzo C'ho qualche attrezzi Una panca per fare gli esercizi Perché io che sono uno sportivo E mi piace allenarmi Il fatto di non poter andare in palestra Che, voglio dire, è una cosa normalissima Nei giorni di normalità Come no? Essere bloccati è stato drammatico Esatto, soprattutto perché Anche anch'io Che faccio palestra Cioè per me Certe volte è fondamentale Perché mi scarica E mi ricarica Come no? Io lo dico sempre Le migliori idee Le migliori decisioni Le ho prese tutte in palestra Assolutamente no Comunque hai ragione Perché mentre fai gli esercizi Comunque è un momento di concentrazione È un momento che pensi Per cui sì Sono d'accordissimo con te Assolutamente Ma anche poi dal punto di vista Immunitario Insomma Non è che voglio aprire una parentesi Medico-scientifica Però pure da quel punto di vista Ci aiutava molto Sì, sì Assolutamente Torniamo al tuo libro Torniamo al tuo libro Torniamo al tuo libro Allora Libre pubblicato Sì Il libro è pubblicato Faccelo un po' vedere Albatross il filo Eccolo qua Eccolo qui Eccolo qui Io ce ne ho un po' di copie a casa Perché mi hanno mandato un po' di copie Si trova adesso Si Comincia a trovarsi nelle librerie Se non lo si trova Si può contattare comunque Appunto la casa editrice Il gruppo Albatross il filo E loro in 4-5 giorni Lo spediscono a casa Si trova già comunque anche su Amazon Sì E su tutti i grandi Diciamo così Mercati Piattaforme Piattaforme online Piattaforme Esatto Che ormai Che ormai conosciamo Conosciamo benissimo Insomma Esatto Esatto Tra qualche giorno Dovrebbe essere disponibile anche la versione Valeria Carbone Sì Scusami Per cui Sì Adesso si può trovare in giro Mi hanno Mi fa molto piacere Qualche mio amico Mi ha già mandato la foto Con il libro in mano O con il libro sul suo tavolo O sul comodino Per cui Sono molto Sono molto contento Questo in attesa poi In attesa Giuseppe Di magari di poter organizzare Dal vivo Una bella presentazione Magari Dai Magari Magari Assolutamente Se si potrà Te lo prometto Vengo anch'io Oh Ne sarò felice Così ci incontreremo Per berci un caffè Dal vivo Dai Così facciamo anche Ti vendiamo anche un caffè In conclusione Perché dovremmo scegliere il tuo libro? Beh È una storia Forse un po' diversa Si chiama la versione di Krasnoyas Perché alla fine di ogni capitolo Ci sono due finali La mia versione È appunto la versione Della città Che sono due Angolazioni diverse Di quello che è successo Parla di tante cose Parla di amicizia Parla di viaggio Parla di La possibilità Che anche una persona Che non è più un ragazzo Ma di fare delle cose Da ragazzo magari E Questo mi è Mi è molto piaciuto farlo Per cui Spero che sia Anche divertente Perché comunque È un libro divertente E appunto Così poi uno si potrà Immedesimare Nei vari finali E chiedersi O dire Sì Secondo me è successo così O secondo me è successo In un altro modo Senti dovremmo vedere Abbiamo visto un po' di foto Abbiamo visto un po' di foto Ne dovremmo avere Eppure qualcuna Una dove ti Dove stai cantando Dove ti esibisci Dov'era? Eccoti Ero in un locale Sì In Russia Ancora va molto Il karaoke Ah sì E ci sono questi locali Molto belli Molto belli Eleganti Così dove Appunto Si fa karaoke Io Questo nello specifico Non faccio tanto pubblicità Perché comunque È dall'altra parte Dell'universo Si chiama Il Pavarotti Il Pavarotti Ecco il nome è un programma Esatto E andai lì E mi misi d'accordo Col proprietario E feci un'oretta Di canzoni Sì Ed è stato anche molto bello Vedere la reazione Delle persone Non abituate assolutamente A sentir cantare in inglese Né tantomeno in italiano In italiano Certo Per cui è stata una serata Molto molto divertente Che ricordo con molto piacere Bene 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 Allora io direi Per tutti i nostri amici Che ci stanno Che ci stanno seguendo Se vi manca ancora Qualche regalo di Natale Quest'anno Assolutamente Sotto l'albero Giuseppe Fiorito Che dici? Ma assolutamente Spero che sia un regalo Gradito Assolutamente A chi lo fate A me farà molto piacere Leggerlo E magari avere qualche feedback Assolutamente Assolutamente Allora Giuseppe Facciamo così In attesa Di magari Di poter partecipare Alla presentazione Dal vivo del tuo libro Dicci un po' Quando uscirà Anche il film? Vediamo Vediamo prima Come va il libro Vediamo prima Come va il libro Dai Poi bisognerà Decidere Chi fa me E chi interessa Ecco Come si dice Dalle mie parti Fatti prima l'asino E poi la sella Giuseppe Giuseppe È stato È stato un vero piacere Grazie Grazie davvero Altrettanto Altrettanto Un abbraccio virtuale A tutti In attesa Di farlo Assolutamente Come no In attesa Di vederci Dai te lo prometto Presentazione E caffè insieme Giuseppe Fiorito Grazie Grazie mille Una buona serata A presto E auguri di buone feste Termina qui Termina qui Questa puntata Di Casual Friday Spero Spero vi sia Vi sia piaciuta Io come sempre Vi ricordo Che poi questa puntata La potete ritrovare Sul nostro canale YouTube Cusano Italia TV Da Manuel Bartonini L'appuntamento Al prossimo venerdì Buona serata Grazie mille 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 Grazie mille